Buongiorno, sono Angela Borracci, consulente della Remax Stella Polare di Bari. Oggi la mia proposta immobiliare è rivolta a chi ha voglia di fare, desiderio di crescere, intraprendenza, energia, passione, una visione per il proprio futuro facendo del passato un tesoro di ispirazione. Sono a Capurso, in pieno centro e a pochi passi dalla Basilica Reale e l'immobile che oggi vado a mostrarvi ha una storia. È stato infatti sede di uno dei panifici più antichi e più conosciuti di questo paese e conserva tuttora al proprio interno il vecchio forno ancora perfettamente funzionante, alimentato a legna e dotato di un sistema a vapore a calore continuo. Il locale con destinazione opificio ha una superficie di oltre 150 metri quadri e sarebbe ideale per avviare molteplici attività, magari sfruttando le strezzature esistenti, valorizzando così al meglio la sua posizione centrale, l'ampio spazio all'aperto retrostante, con possibilità anche di superfici edificatorie, ma soprattutto la possibilità di porre a servizio dell'attività l'abitazione soprastante. L'appartamento completamente indipendente risulta molto luminoso grazie alla sua posizione angolare ed è composto da una cucina in muratura abitabile, salone, tre camere da letto di generose dimensioni ed un bagno. Completano la proprietà un locale deposito al piano interrato di pari superficie e un terrazzo calpestabile da cui godere di un bel panorama e vista sul campanile della Basilica. Allora, hai voglia di crescere e di fare un salto di qualità? Di dare una svolta alla tua vita professionale? Questo è l'immobile giusto per te. Chiamami, ti aspetto!